La Cattolica ha fatto una bella mostra di fotografie di tutte le volte che Pinketz e io più lo guardavo e più io sembravo più vecchio di Pinketz infatti tutte le volte pensavo ma guarda un po' sono qua, ho la stessa età più o meno eppure c'erano delle foto dove avevamo la stessa età un po' di tempo fa lui era giovanissimo io invece sembravo un vecchione Pinketz è così, era una persona sempre giovane Sì è rimasto sempre assolutamente giovane all'inizio c'era stato anche un inizio burrascoso a trattenere perché lui era un tipetto alla Hemingway Sì sì, io la prima volta che ho conosciuto Andrea G. Pinketz che qualcuno avrà conosciuto anche qua tante volte al di là di tutto il resto c'è un grande scrittore però come personaggio mi sei inquadrato la prima volta che l'ho visto a Cattolica io arrivo e vedo uno strano tizio che si avvicina con un cappello da cowboy una collana e poi una camicia waiana e ho detto ma chi è questo qua? era l'equivalente, il romagnolo se volete, il tamarro chi è sto tamarro? aspetta, calma, perché Pinketz è sempre un rovesciamento dietro e ero con un editore e un altro scrittore l'editore dice oddio questo qui è uno che ce l'ha con me vuole spaccarmi la faccia infatti Pinketz punta diritto verso di noi si butta così sul tavolo e poi a me mi dice fammi accendere all'altro scrittore gli dice vami a prendere una birra e all'editore gli dice a te ti spacco la faccia allora l'altro scrittore che era uno molto più grosso di noi è scappato subito, ha detto ho da fare devo telefonare è andato via io ero rimasto chiuso tra Pinketz e la fioriera quindi non mi sono mosso e sono rimasto lì un po' sul chi vive tempo tre secondi come succedeva con Andrea era già amico di tutti ci aveva offerto lui una birra stavamo chiacchierando altro che tamarro e si capiva che era tutta una sua messa in scena e fin lì sarebbe finito lì avrei detto guarda un po' che strana notizia però mi si è rivelato la volta che poco dopo cammino per lungo il corso e ci sono tutti i bar esce fuori una mano da un bar e mi ferma e c'è Pinketz con altri due e mi dice fermo lì e poi gli altri due gli dice questo qui è un vero uomo non è scappato davanti a Pinketz che era un'altra rilettura della realtà fantastica che io gli ho visto fare un'altra volta per cui a qualunque altro tipo di persona magari certe cose non le avreste mai perdonate una volta facciamo sempre a Cattolica una trasposizione teatrale del mio Via delle Ocche quindi un mio romanzo fatto in teatro da autori i nostri amici tra cui Marinella Manicardi e a vedere le cose in teatro c'è anche Pinketz quindi amico mio fraterno a un certo punto nel momento in cui l'investigatore comincia a riflettere su chi è stato c'è un momento di pausa e di silenzio un fischio e pa! una scarpa sul palco per cui tutti fermi così e si sente un indizio è Pinketz io sono rimasto bloccato tutti fermi l'attore è bravissimo ha preso la scarpa ha continuato il suo monologo è sceso l'ha data a Pinketz è ritornato su Pinketz dopo è venuto da me e io gli ho detto Andrea ma sei fuori ma scusa siamo anche amici fraterni cioè la mia commedia è tu tiri una scarpa e lui mi ha detto guarda che in quel momento anzi è arrivato e mi ha detto sei stato contento? dico come contento? in quel momento lì c'era bisogno di un'azione esterna e mi ha citato una serie di cose situazioniste non lo so se fosse vero gli attori lo volevano ammazzare questo è sicuro Mariella Manicardi tremava e diceva non mi è mai successo in tutta la vita una scarpa io però devo dirvi la verità gli do ragione perché adesso io racconto quel pezzo di commedia lì che sarebbe stato come tante altre repliche che sono state fatte in una maniera diversa e la racconto così alla Pinketz quindi Pinketz arrivava lasciava un segno suo che poi potevi anche rimanerci male o spaventarti ma in realtà era una cosa alla Pinketz ed è una capacità quella di trasformare tutto quello che incontri alla te stesso e di farti ricordare in questo modo qua cioè ridendoci sopra ed essendone felice quindi assolutamente